L'Avvocato Maria Lanzara, in qualità di custode giudiziario, ha consegnato le chiavi del Palazzo Marchesale di Marina di Camerota al Sindaco Mario Salvatore Scarpitta per dare il via alle operazioni di pulizia e bonifica dell'area circostante al bene storico. Il Comune di Camerota ha esercitato il diritto di prelazione sull'acquisto di questo immobile. Quello di oggi è un primo passo importantissimo verso la consegna definitiva del Palazzo Marchesale al popolo di Marina di Camerota, ha detto il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta. È un momento importante. Pochissimi minuti fa abbiamo ricevuto dall'Avvocato Lanzara, che si occupa del procedimento di Castello, le chiavi per iniziare le operazioni di pulizia, come abbiamo chiesto tramite l'Avvocato Sansone, che ringrazio ancora una volta per aver raggiunto l'ennesimo grande risultato per l'ente. Da oggi, da questo momento, abbiamo a disposizione la possibilità di ridare dignità a questo luogo, ripulendolo e riportandolo ai suoi antichi splendori.